Buongiorno sui giornali, oggi ci sono un po' di cose non troppe come spesso avviene lunedì, ci sbrighiamo subito nel citare quelle che sono l'obbligo di cronaca. La prima riguarda le banche, ma non ne sappiamo nulla perché oggi ci saranno le trattative, l'Eurogruppo e le cofini in Europa per capire come salvare Monte dei Paschi di Siena. La seconda è il tradizionale sondaggio del lunedì di Repubblica riguarda il referendum e il secondo è il sondaggio Renzi a rischio perché il referendum vede il 37% a favore del sì, cioè a favore di Renzi sostanzialmente, il 30% a favore del no. Ma il dato fondamentale c'è scritto nelle tabelle che sono 13 punti percentuali in meno rispetto soltanto febbraio di quest'anno, il che vuol dire che il referendum sta perdendo grandissimo appeal. Due cose su questa, la prima l'ipotesi dello spaccattamento in tre o in cinque di cui parla Repubblica è sempre più difficile, in realtà poi non si capirebbe perché lo spacchetti, ha ragione in questo il presidente della Confindustria, rischia di venire un mostro, approvi uno, non approvi l'altro, insomma non si riesce a capire quello che viene fuori e soprattutto mi chiedo perché Ilvio Diamanti, visto che fa questi sondaggi Repubblica, ci deve sbomballare per una pagina per commentare le tabelle che si commentano da sole. Insomma se io facessi il direttore di qualche mai giornale, due righe di commento per ogni tabella e quanto basta. Su Repubblica le banche ve ne ho parlato dell'Europa e Renzi. Adesso andiamo sulle cose che mi divertono. Bellissimo oggi il reportage di Repubblica perché Zucconi si prende un amico poliziotto e tira fuori una storia come spesso fa Zucconi, scritta benissimo, speriamo che sia vera, e cioè sulla polizia americana e sul razzismo nei confronti dei neri. Insomma questo poliziotto gli dice varie cose che tra l'altro Zucconi avvalora con delle tesi, con delle statistiche e una delle cose che dice, che dice ragazzi si parla tanto di quando noi ammazziamo un nero, si è stato clamoroso quello che è avvenuto, ma voi non avete idea quanti poliziotti vengono ammazzati dai neri e come dire la reazione dell'altro giorno deriva dal fatto che noi abbiamo paura. Questa è la tesi di Zucconi che non dice esplicitamente ma che si fa capire. Inoltre, l'altra cosa che dice bene Zucconi, nel 2015 sono stati uccisi dai poliziotti più bianchi che neri e di più a sparare sono poliziotti neri rispetto a quelli bianchi. Insomma i veri numeri attraverso la storia dell'amico di Zucconi sono da leggere in questa paginata intera di Zucconi che ha veramente un pregio, quello di scrivere bene e raccontare le storie con attenzione. Movimento 5 Stelle va in Israele ma gli viene impedita la visita alla striscia di Gaza che come voi sapete è controllata da Hamas, organizzazione terroristica e ammesso dagli stessi Movimento 5 Stelle essere terroristica, ma volevano andare lì dove uccidono i palestinesi, Hamas uccide i palestinesi, uccidono i cristiani, sono fondamentalisti islamici e vogliono la morte di tutti gli ebrei. Ci sta che forse lo Stato di Israele che vuole essere annientato da Hamas non voglia fare come scrive il pezzo più bello di oggi su questo fiamma Nierenstein sul giornale, Israele non voglia fare da ponte con Hamas. Il pezzo c'è un'intervista alla Disegni che è a Roma ma non ve la consiglio perché l'intervista non dice nulla, mentre ottima, quindi ottima è davvero la fiamma Nierenstein. Molto interessante il pezzo, cioè molto divertente, Giuliano Ferrara sul foglio di lunedì che sfotte la Raggi ma anche sfotte un po' tutto il Movimento 5 Stelle che non riesce a mandar giù Ferrara, la cosa più divertente è che bisognerebbe mettere una mano sopra la Raggi e a farlo, speriamo che ci sia lo studio San Marco Previti e non lo studio Casaleggio, sono le ultime due righe del pezzo di Ferrara, come dire se lei riprende la sua vecchia diciamo roba di potere romano può funzionare, se invece pensa di affidarsi allo studio Casaleggio è imbarazzante quello che il Movimento 5 Stelle farà a Roma. Andrei sugli ultimi due temi per cui mi trengo due minuti che sono quelli che mi interessano di più. Fantastico oggi il fondo di Sallusti, anche l'apertura del giornale. Effettivamente questa roba della sfilata ai funerali di Emanuel, del nigeriano 32enne ucciso da un italiano ultra della fermana, mi sembra che si chiami la squadra di fermo, e con tutta la sfilata di boldrini e di boschi e di governo ti fa un po' arrabbiare. E oggi lo dice benissimo Sallusti, dice non si può trasformare in un grave fatto di cronaca in un fatto politicamente rilevante. Il governo, dice Sallusti, inventa un'Italia razzista, cioè qui stiamo parlando di un fatto di cronaca grave, può anche essere stato razzista lui, ma l'Italia dice Sallusti, prende gli immigrati, li paga con le sue tasse, li accoglie, gli dà del lavoro, ci sono decenti d'accoglienza, è sufficientemente tollerante. Adesso non vi inventate che siamo un popolo razzista, quello è un delinquente, se l'ha ammazzato, vedremo come e quando sarà nel processo la pena e la dinamica dei fatti, ma non vi inventate un'Italia razzista, non vi inventate questo piagnisteo della Bosch e della Boldrini che vanno lì e che vogliono testimoniare che cosa? Vogliono testimoniare quello che gli italiani che non hanno le scorte, che non vivono nei palazzi nel centro di Roma, tutti i giorni testimoniano, cioè la convivenza con immigrati in un tasso molto superiore a quello che forse noi saremo in grado di ottenere. Chiaro? Fantastico, oggi Sallusti che condivido al 100%. Se mi è permesso, oggi però il titolo del pezzo migliore c'è sul Corriere della Sera, lo dico da vice direttore del giornale e da grande sponsor di questa rottura dell'ipocrisia sul funerale di Emanuele. Però oggi il pezzo del Corriere della Sera di Ernesto Cali della Loggia, mentre tutti gli altri giornali con Emanuele e la retorica del funerale, il funerale è una piccola breve sul Corriere della Sera in prima pagina, mentre su Repubblica e sugli altri giornali è magnificata perché dobbiamo frustarci, perché siamo razzisti, beh, il Corriere della Sera, bravo il direttore, bravo Fontana, straordinario, Galli della Loggia, le parole che l'Islam non dice. Questo è il fondo. È un fondo incredibile di Galli della Loggia. Da anni, infatti, i terroristi islamici seminano dovunque la morte, ma l'opinione pubblica occidentale si sente puntualmente ripetere che la loro religione non c'entra nulla. Il più delle volte con l'argomento, evidentemente reputato in grado di chiudere la bocca a chiunque, che a tal punto il terrorismo islamico non c'entrerebbe nulla, che spesso le sue vittime sono proprio gli stessi islamici. Come chi dicesse che poiché la guerra di religione nell'Europa del 5-600 vedevano cristiani ammazzare altri cristiani, proprio per questo la religione con quella violenza non c'entrasse nulla. E questo è il primo punto. Le cose stanno bene, altrimenti i giadisti, ha scritto Trump e Jalù sul Repubblica, cita Repubblica, i giadisti prendono riferimento ai versetti che erano validi all'epoca della loro rivelazione, ma oggi non ha più senso, dice Trump e Jalù sul Repubblica. Allora sapete come gli risponde Galli della Loggia? Ma mi chiedo, e chi è che lo dice? Quali versetti del Corano continuano ad avere senso e quelli invece sono, per come dire, passati di moda? Chi? E in ogni caso, non vuol forse dire quanto scrive Ben Jalùn che comunque in quel testo ci sono parole, precetti che si prestano magari e magari incitano a un certo uso della violenza? Allora, il Corano è violento, dice Galli della Loggia, cioè quello che non è possibile dire a Salvini, non è possibile dire al giornale, non è possibile dire a nessuno, Galli della Loggia oggi lo scrive in un fondo sul Corriere della Sera. Fa una differenza o no, ad esempio, se i Vangeli non registrano nella predicazione di Gesù di Nazareth alcuna azione o proposito violento contro coloro che non credono? Non ha significato forse proprio questo la possibilità nell'ambito del monoteismo cristiano di mantenere aperto costantemente uno spazio di contraddizione? Sostanzialmente, dice Galli della Loggia, il Corano è violento e chi decide che quei versetti di violenza del Corano, a differenza del Vangelo, che violento non è, quei versetti del Corano non debbano essere seguiti. Mi pare assai dubbio, insomma, che tutte le cosiddette religioni del libro adorino davvero lo stesso Dio, come sostengono gli stancabili promotori delle tante occasioni di dialogo interreligioso. Ce l'ha pure contro il dialogo interreligioso, contro l'ipocrisia del dialogo interreligioso. In realtà è assai difficile pensare che l'Islam non abbia un problema specifico tutto suo con la violenza. Questo è quello che scrive Galli della Loggia, questo è il fondo oggi del Corriere della Sera, questo è un punto fisso quando ci daranno dei razzisti, degli islomofobici o come cavolo si dice, quando cercheremo di commentare le stragi del Bangladesh avvenute perché non si riusciva a recitare il Corano anche nella logica del terrorismo islamista. Oggi è tutto, noi ci vediamo domani. Ciao!